Spinelli prima di entrare a lezione. La polizia locale di Como ha sorpreso tre studenti dell'istituto Ripamonti segnalandoli al prefetto come consumatori di sostanze stupefacenti. Da tempo gli agenti di Como, in particolare l'unità operativa sicurezza urbana coordinata dal commissario Aurelio Giannini, stanno aumentando i controlli in città per contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti tra gli studenti. Martedì mattina gli agenti in divisa e in hanno effettuato alcuni controlli poco prima dell'inizio delle lezioni in zone strategiche della città, fermate dell'autobus, punti di ritrovo vicino alle scuole e piazze. Hanno sorpreso tre studenti, due minorenni e un diciottenne, in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana. Stavano preparando uno spinello poco prima di entrare a scuola per l'inizio delle lezioni. I tre ragazzi, studenti della Ripamonti, hanno consegnato la sostanza senza dire però da chi arrivasse. Sono stati segnalati al prefetto di Como per uso personale di sostanze stupefacenti.